Amici di Bracemi Ancora, oggi parteciperò ad uno spuntino sardo, lo conoscete lo spuntino sardo? Se siete sardi, sì, se avete amici sardi pure, ma se non siete mai stati in Sardegna e non avete mai partecipato a uno spuntino sardo non lo potete conoscere lo spuntino sardo, io mi trovo a Locoe, spero di averlo pronunciato bene tu dirai, endo sta a Locoe, Locoe sta a metà strada tra Nuoro e Orgosolo endo sta a Nuoro e Orgosolo, stanno in Sardegna, vanno in una Sardegna qualsiasi, stanno in barbagia praticamente il cuore pulsante della Sardegna un mio amico Marco Porcheri, che ringrazio, che io voglio tanto bene, mi ha organizzato lo spuntino sardo lo spuntino sardo c'ha tutto fuorché le sembianze di uno spuntino cioè è un appuntamento che si danno i sardi dai 10 di mattina e se magna fino a fine spuntino mai inizia a mangiare le 10 e non finisce più non sono solo perché è venuta con me, Maddalena, amica di Bracemi ancora ristoratrice di Caserta, Dogana Golosa è il suo ristorante, se state dalle parti di Caserta andatela a trovare senti, hai mai partecipato a uno spuntino sardo? no no, una caratteristica dello spuntino sardo, oltre al fatto di mangiare tantissimo è quella che partecipano solo uomini ok oggi sei l'unica donna metto, leggo i capelli, metto la coppola mi travesto no, che te travesti, no, rimani così, che te travesti Maddalena, che ci hai portato? pane carrasao buono a piada, di orgosolo formaggio, un sacco di roba buona, iniziamo, ti presento un po' di amici vai perché oggi si mangia, si mangia, si mangia lo sfinimento ok mamma di qua che cazzo è? si inizia proprio bene dobbiamo cercare di farlo uscire qua dal naso? se no ci criticano ah si? l'hai mai assaggiato il maialetto così? è la prima volta si oddio mio che onore mettiamo un po' il segreto della nonna che metteva il lardo sul minestrone lardo ovunque questo è di maiale sardo proprio, di razza sardo se vedi c'è scritto proprio ce lo vedo proprio voi direte ma dove stai? dice stai in paradiso? praticamente sì perché secondo me queste sono le porte del paradiso ragazzi vi voglio presentare Mario Mario è un essere mitologico metà uomo metà spiedo ok? è l'arrossitore di orgosolo se non sapete cos'è orgosolo ragazzi è un paesino meraviglioso nel cuore della barbagia che dista qualche chilometro perché noi tecnicamente stiamo all'Ocoe a metà strada tra Nuoro e orgosolo un posto pazzesco per quanto è bello allora Mario tu sei l'arrossitore di orgosolo ovvero sia sei colui che gira per tutta la Sardegna a portare queste meraviglie dimmi che hai preparato allora che ci abbiamo qua? allora abbiamo il maialetto questo è il maialetto? sì il maialetto la spalla di pecora spalla di pecora una mezzena di agnello di agnello quindi pecora adulta quanto c'aveva questa? eh due anni due anni agnelletto quanto c'aveva? no no due mesi due anni due mesi a posto ok? e qui abbiamo uno spiedo con le frattaglie sì su tattalino su tattalino ho capito tutto ecco ma poi ragazzi sentiamo il suo collega che ci fa una lezione di orgolese orgolese che è l'accento di qua entriamo nel tecnico si infila la spada sì si mette a che distanza dal fuoco? eh su un metro e mezzo un metro e mezzo tu fai a occhio non c'è scritto più o meno bisogna parlare sia con la carne sia con il fuoco parli con la carne e con il fuoco c'è tutto qua c'è piano piano è lui che ci dice di avvicinarlo di impostarlo ma per maniallo da dove inizieremo? da dove si inizia? no vabbè tagliamo cerchiamo di dividere tutti i pezzi perché devono assaggiare tutti sennò io preferisco la spalla e il guanciale senti chiamiamo Tonino Tonino via qua in orgolese Tonino che non è sardo è una diramazione del sardo giusto? pronuncia del maialino pronuncia del questa è la pecora adulta pronuncia dell'agnellino sanzone fine abbiamo lo spieto con l'interiore? su totta lì perfetto no? grazie mi figura ciao amici abbraciamo ancora breve interruzione per dirvi che è uscita la nostra guida stack house e macellerie d'italia 400 indirizzi utili dalle alpi alla sicilia ci sono tutte le province la trovate su amazon basta digitare il titolo della guida o al limite il mio nome e il cognome oppure vi lascio il link in descrizione 13 euro e 50 350 pagine così sapete dove andare a mangiare carne di serie A ragazzi è colpa sua se io sono in Sardegna anche questa volta Marco Porcheri grande amico di Braccio Vincora grande fan di Braccio Vincora possiamo dire il portavoce di Braccio Vincora in Sardegna ok dammi la definizione di spuntino sardo perché se io vado sul dizionario guardo spuntino dice una cosina così una tartarina un pezzettino di pane col prosciutto un pranzo tra amici un pranzo tra amici ecco che inizia ai 10 e non si sa quando finisce esattamente avvertite le mogli che quel giorno voi non ci siete no no Francesca sa che non devo tornare perfetto qua c'hai qua del vino perché iniziamo così giusto allora adesso iniziamo con un bicchiere di vino ci sta un po' di pane si e poi questo se ti ricordi l'altro giorno si sul tratta liu sul tratta liu si questo è ti ricordi il rotolo diciamo si il rotolo questo è quello che c'era all'interno quindi lardo e tutta l'interiore benissimo ok è lo spiedo con l'interiore del maiale ho studiato ecco bravo e innaffiamo col vino rosso per iniziare lo spuntino sardo o vuoi una coca a zero? no 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 vai per essere buono devi fare scrunchio scrunchio sentiamo qua pure questo è mortacci quanto è buono mi dici Marco cos'è questa? sembra una piadina? no ma se dico piadina mi hai cacciato questa è la spianata tipica fatta con il forno a legna come si chiama Noro? panedas come si chiama Orgosolo? spianata perfetto quanto disto di Orgosolo e Noro? 18 km perfetto benissimo mi va a sardegno questo c'è la faccia di essere pecorino rusparter genuino Mario tu mi assicuri che non l'hai preso all'Eurospin? in offerta? no 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 o da Euronix? no le Orgosolo non lo lasciano neanche passare questo ok ma tu hai le lacrime c'ha le lacrime? pecorino sardo con lacrima perché devi assaggiare prima tu? perché il canale è il mio il pane ha mangiato il canale sardo e il lardo ora si passa al pecorino con lacrima magna ti piace? vuoi rimanere qui? allora se vuoi rimanere qui devi fare due cose uno via sta borsetta che pare che stai a via condotti a Roma due ma le povera si è stata con queste scarpe no no al sopramonte non si può andare con quelle ma che stai venuto? anche i pantofoli mamma mia a Mario praticamente sto spietà affatto verticale a destra orizzontale a destra orizzontale al centro orizzontale sinistra giù praticamente si è fatto tutto l'arco costituzionale ok? tutto il giro del globo del fuoco esatto se fosse un politico sarebbe un democristiano ok? che è passato si è fatto tutto l'arco costituzionale ora lo mangiamo si si ce lo mangiamo se no bisogna rivottarlo ora se lo mangiamo è anche un po' socialista ok? adesso ce lo mangiamo vai tira fuori va adesso togliamo dello spiedo ora togliamo dello spiedo questa è una fase che mi interessa tantissimo ragazzi ah lo tagli così e poi a modo de kebab mamma mia kebab scansate proprio poi togliamo anche qua guarda là guarda lì vedi sulla punta si stava un po' asciugando però adesso qua ritorniamo l'hai ripreso e si stava asciugando sulla punta eh signori e signori muniti di coltellino sardo che ho scippato a Marco ci prendiamo il lardo e lo mettiamo sul pane carasau ci prendiamo questo che mi sembra non lo so ho perso completamente l'orientamento ci prendiamo pure questo qua questo è il fegato questo questo è il fegato ok? ci rimettiamo sopra un po' di lardo piegamo tutto se vi piacciono le interiore del maiane questo piatto è da sturbo è da morire è da morire e con il vento che muove i tuoi capelli possiamo chiuderla qua è buono pure questo ma l'ho fatto? no no signori qui c'è stata la costruzione MacGyver scansati io non lo so ragazzi se conoscete MacGyver ma quando ero un ragazzino io era un telefilm di questo che si inventava l'universo mondo con un fil di ferro via qua e MacGyver dava barbagia praticamente e che cosa avrei? io vedo un pezzo di lardo con dei pezzi di legno per innescare infilzato zitto aspetta infilzato su uno spiego col fil di ferro che cavolo hai fatto? questo è per dopo che ci diamo come lardo caldo ma è legale? sì è legale che cefaresti con questo? eh questo ci sono molti tipi cose da fare però adesso lo usiamo per cucinare però a volte anche qualche di un antipattico cucinarlo gli dà una pulcicatura vai io ancora non ho capito che utilizzo ne farai aspetto chiamami quando evolve la pratica ok? va bene a dopo voi l'avete mai vista una cosa del genere io no come si chiama questa cosa che stai facendo? stibiare stibia voce del verbo stibiare in questo modo noi gli diamo un insaporimento con il suo grasso sì con il grasso della madre diciamo signore il padrone di casa quello che ci ha ospitato grazie tutto bene? il padrone di casa ha portato un altro po' di roba visto che mancava tiè Maddalè vai c'entra la borsa ti metti qua oh dove vai porca sperma sono esattamente passate 5 ore da quando l'abbiamo adagiato e sono 5 ore che mi sopporti Mario mi fai fare il primo atto tagliamo tagliamo la testa tagliamo la testa al toro no al maiale come si fa? infilo? infila e a stilo tringi stringo vabbè tu hai fatto tutto da sua l'ha fatto tagli anche questo che casino ragazzi non li reggo più scorre del vino nel loro sangue com'è che si chiama il maglialetto non lo regolete? non me lo ricordo più il maglialetto ragazzi il privilegio di poter fare quello che sto facendo è questo che mi piglio ho la cotenna cracker? un cracker mortacci quanto è buono prendila vantale apri la bocca fammi la masticazione sexy ti piace la sardegna? ti piace il maglialino? non c'è rischio che trovi un dito ma te lo lascio questo e tu lasciamo la parte meglio ok il magliale abbiamo dato sul magliale ora arriva l'agnello vai con l'agnello togli il magliale la codina del magliale ragazzi mangiamola perché io non ho mai mangiato la codina del magliale è un po' dura ah ora abbiamo l'agnello Adonino ma non è che questi tronchesi qua la notte vai per casa vai no 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 vai per il cancello stiamo sicuri? non vuol dire che ragazzi non vuol dire che è un segreto poi stanno attenti ragazzi io ribadisco che la cosa più buona che ho mangiato in vita mia era il maglialino dell'ultima volta che ero venuto qui in Sardegna e adesso è questo la cosa più buona che ho mangiato in vita mia fermi 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 tutti buoni ragazzi a smontare l'agnello il magliale con le tronchesi se siete arrostitori di orgossolo ma se siete degli eleganti ristoratori che fanno carne a caserta riuscirete a limpeza a piedi pieti dei tronchesi più zozzi del mondo guarda guarda Donino quanto dole sta a fare tutto lui Tonino che tagliamo? tutto quanto taglia Vandalè taglia questa dai Vandalè mettici dai 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 brava aspetta aspetta stimoliamola hai appena arrivato all'asla ho detto che devi diventare un ristorante vegano braaa vabbè continuate scusate ragazzi applauso per questi due che se lo meritano mamma mia quanto siete bravi prendila uno dai grazie buon appetito buon appetito saluto per me il pulcetto sardo rimane una delle tre cose più buone al mondo io torno ogni volta che torno ho la stessa sensazione ho imparato a mangiarlo ragazzi sono in posti diciamo molto rustici molto sinceri molto genuini grazie a Marco che mi fa vivere queste esperienze meravigliose poi mi dici quanto ti devo dare me lascio l'Iban e io ti accontento che l'Iban contanto contanto Black Sabbath non so che parte sia della pecora no questo è agnello è agnello pecora come sta fuori no agnello agnello assaggiamo l'agnello però non l'hai fatta nè sì tutta la volta sa no no pure agnello questo è poi l'alcanza e lo vuoi non so addonino mi distrago un attimo e te li trovo con una provola in mano colpa sua eh lo sapevo le provole le hai portate te lo traduci sì sì le fai te che ha detto le pecore sono le tue no sono di mucca le mucche sono le tue eh sì come ti chiami? Battista Battista bel nome non ci credo signori amici di Bracciami Ancora procede qui la mia esperienza della campagna della barbagia mortacci quanto è bono qui siamo oltre il mortacci quanto è bono limove perché ragazzi Francesco produce vino Urulu urulu che vino è? è un cannonau è un cannonau in purezza viene prodotto dalle cantine di Orgoslo che è una realtà giovane tutte vitigni autoctone immagino tutti vitigni autoctone immagino non fate miliardi di bottiglie neanche noi facciamo 30.000 bottiglie siete una chicchietta una primizia siamo una piccola una piccola cantina quelle che piacciono a noi allora adesso faccio così mi assaggio la guancia tu mi hai selezionato questo? sì 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 Urulu sì e questo è stato addio perché toglie il grasso del maiale assolutamente e poi voglia un altro mozzico e un altro goccio ma se uno lo volesse con molta facilità puoi scriverci a info chioccio la cantina di Orgoslo punto it oppure ricercarci su internet spedito in tutto il mondo spediamo in tutto il mondo ragazzi dopo solo otto ore di permanenza in questa casetta privata termina la nostra esperienza il nostro spuntino sardo allora io voglio ringraziare Pietro che ci spiace grazie mille Michele che è il fratello di Pietro ma abbiamo deciso che parla Pietro ok perché tu hai troppo hai tracce di sangue nel Cannonau e quindi grazie a Marco ragazzi che mi ha organizzato questa giornata pazzesca e questa permanenza in Sardegna in Barbagio amo questi posti ci rivediamo presto ci dobbiamo rivedere presto ci rivediamo presto esatto dobbiamo tornare e al più presto vediamo quando secondo me ragazzi se vi facciamo mangiare tutta quella roba che vi abbiamo fatto vedere sono convinto che tornerete torneremo insieme insomma c'è la possibilità di organizzare qualcosa ultima cosa ragazzi prima del saluto finale ditemi se volete Maddalena nei prossimi video o no sono sopravvissuta sono sopravvissuta e sei divertita con la metà basta sei divertita con la metà basta un abbraccio ragazzi viva la Sardegna viva la Barbagia un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi ciao